oggi chissà cosa accadrà dove si andrà chi ci sarà con l'allegria e fantasia kit e che sono qua forza amicetti si va l'abito reale a che cosa vuoi giocare oggi kit? non lo so guardiamo nella scatola guarda un metro a nastro e delle forbici saremo dei sarti sì e cuciremo un vestito per il re il re d'insettolandia forza amicetti si va kit e kit uscirono dalla loro scatola magica e corsero subito al palazzo reale d'insettolandia vostra altezza ecco i sarti di corte salve domani è il giorno in cui consegnerò il trono a mio figlio il principe vermino quindi voi in quanto sarti di corte avete il compito di cucire un meraviglioso abito per il vostro futuro re mamma non posso mettermi una maglietta e basta tutto ciò che vi serve è qui bottoni perla fatti di perle vere ovviamente filo dorato 24 carati è la cosa più preziosa di tutte ci sono voluti la bellezza di cinque anni e mille bachi per tessere questa seta mi raccomando ce n'è abbastanza per un solo abito mettiamoci al lavoro ci servono le misure del principe vostra altezza fa il solletico quant'è alto nove nove segnato giuro vita sette sette bene quante zampe una due tre salute dove ero rimasto oh giusto tre quattro cinque cinque zampe sono cinque sei sicuro sì le ho contate va bene cinque segnato abbiamo tutta altezza bene ritorneremo questo pomeriggio e ora mettiamoci al lavoro oh ma è magnifico provano subito figliolo come va il bavero bene che mi dici delle spalle le ho sempre qui e le zampe figliolo tutto a posto con le zampe non lo so non riesco a trovare la sesta la sesta oh voi due ne avete cucite soltanto cinque ma non sapete contare e ora cosa dovremmo farci con questa guardia portali nella cella sotterranea ma poi si avvicinò un misterioso straniero cosa è successo? alla regina non è piaciuto il vestito che abbiamo cucito per il principe e perché? non gli stava bene? ecco fino a un certo punto sì è che abbiamo fatto solo cinque zampe invece di sei come avete fatto a sbagliarvi? non lo so abbiamo misurato tutto e ditemi quante volte avete ricontrollato le misure? nessuna e come facevate ad essere sicuri che fossero giuste? oh adesso ho capito se vuoi fare qualcosa in modo preciso è sempre meglio controllare di nuovo per essere sicuri grazie papà ehi come avete fatto a riconoscermi? proviamoci di nuovo Kate ma stavolta assicuriamoci di controllare due volte prima di cominciare a fare qualsiasi cosa abbiamo imparato e torniamo al passato Kit e Kate ricominciarono da capo la loro avventura come sarti reali ma questa volta ricontrollarono le misure per assicurarsi di averle prese giuste cinque zampe sei sicuro? le conto di nuovo una due tre quattro cinque sei aspetta una due tre quattro cinque sei ho sbagliato sono sei sei segnato così dopo aver preso e ricontrollato più volte le misure Kit e Kate tagliarono la stoffa reale e cucirono un perfetto abito per il principe pip pip hurra evviva 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 hurra iphone a a a a a Autore dei sorrisi